Io non avevo la scorta, io sono la più vecchia in Europa a 92 anni, che per l'odio antisemita ancora ho bisogno di essere protetta e questo credo che sia una grande vergogna del mondo che mi circonda, ma avviene, io vivo con la scorta. Andrebbe fatto il giro di questo memoriale in silenzio, pensando che uomini, donne, bambini, anche neonati, bambini che adesso li sentiamo nominare tutti i giorni della orribile guerra in Ucraina, bambini, bambini meravigliosi, colpevoli, solo desertati, sono stati deportati da qui e che arrivando a destinazione venivano uccisi immediatamente. Non ci sono parole per descrivere questo luogo, uno dei pochi luoghi storici italiani. La senatrice ha detto di essere la donna più anziana d'Europa e di avere la scorta. L'antisemitismo è un tema assolutamente centrale ancora. Purtroppo sì, io so solo che ricevo, oltre a un abbraccio affettuoso delle persone, so di ricevere anche insulti e minacce.